Isola dei famosi 2022, brusco incidente per la concorrente Lori del Santo, vediamo cosa è successo e soprattutto come sta. Sui Twitter nelle ultime ore ragazzi è comparsa una breve clip tratta proprio dal daytime che vede protagonista Lori del Santo, ma vediamo che cosa è successo perché è stata protagonista di una brutta caduta. In una giornata tranquilla, mentre Jeremia Rodriguez era intento a mangiare e conversare col padre Gustavo e gli altri naufoghi, improvvisamente l'inquadratura si è spostata proprio sulla povera Lori del Santo. Lori che questa volta ha deciso di partecipare e fare coppia con il compagno Marco Cuocolo nel reality l'isola, non si è resa conto della presenza di un grosso pezzo di legno e mentre stava indietergiando è inciampata, arrivando così a cadere diritta per terra rotolando. Immediatamente i ragazzi e i compagni presenti lì, Primis, Clemente e Laura Maddaloni, sono subito intervenuti per sincerarsi che tutto andasse bene e che non si fosse fatta del male. Lei però è stata molto serena e con la forza che Lori si ritrova dice «Sì ragazzi non vi preoccupate, tutto a posto, è stata solo una piccola capriola», ha detto, per non farli preoccupare. Lori del Santo dunque, nonostante la botta, fortunatamente non si è fatta nulla di male, solo qualche graffio, tanto che in puntata più tardi poi è a pasta molto serena e tranquilla. Un piccolo incidente che per fortuna non ha avuto grossi problemi per Lori, che ha continuato tranquillamente la sua avventura all'isola dei famosi. questo ragazzi e tanto altro, sempre sul mio canale, quindi continuate a seguirmi, lasciami un like se ti va e ti raccomando iscriviti e attiva la campanellina perché solo così non ti perderei questo ma nessun altro prossimo video.